Ok, chiamiamo in campo il primo concorrente Moraglia dice sul base or win, inizia il suo percorso Prima concorrente, lei è ad aprire le danze post oggi Bene il primo ostacolo Secondo ostacolo, giro tra le botti Bene anche il passaggio nell'otto, trotto bello deciso Ricordiamo che quest'oggi, diversamente dalle altre volte Nessuno dei ragazzi ha potuto visionare con il cavallo il percorso Quindi sono entrati alla cieca, i cavalli non sanno quello che devono fare Perciò potrebbero anche incappare in qualche difficoltà Bene anche il passaggio nell'otto, trotto bello Parte terminale del percorso Coralice Molto bene il trotto all'interno delle palline Bene la giurata del pool E ora parte terminata del percorso Stiga l'oppo e si prepara a chiudere la fotocellula Facciamo un applauso e chiude Un minuto, 31 e 30 Percorso letto